L'avvio del progetto europeo Hangir ha portato a una collaborazione tra il governo, le università, gli studenti e il mondo imprenditoriale armeni con il consorzio universitario italiano Alma laurea. Obiettivo? Favorire in modo particolare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani armeni con titolo universitario colpiti dal dramma della disoccupazione. La collaborazione con Alma laurea servirà anche a diffondere la cultura della valutazione nel mondo accademico armeno. Per avere un sistema di strumento per monitorare l'educazione, per vedere qual è la demanda del mercato del lavoro, eccetera, è una cosa molto interessante. Credo che avremo un buon progetto. Per capire la soddisfazione dei studenti dopo aver finito l'università può aiutare gli studenti, e gli studenti futuri e le università per aumentare i loro programmi e essere più stricte per le necessità dei mercati. Il progetto ha coinvolto inoltre gli studenti e il mondo delle imprese. Le suggestioni e le azioni che stiamo implementando sono molto importanti e saranno in grande valutazione per l'economia armeniana. Il problema è che l'economia è che l'economia dell'economia è più alta tra gli studenti. Per avere un'economia qualifiche, bisogna lavorare. E questo progetto può aiutare. Grazie. 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 Grazie.